Paolo Simone, com'è stato dai romanisti raccontare un'icona della Juventus, anche se però dell'Italia? C'è tanto spazio per l'Italia, per questo mondiale straordinario che ci hanno regalato? Ma c'è anche tanto spazio per la Juve, quindi purtroppo è stata una piccola sofferenza. No, scherzi a parte, l'approccio che abbiamo avuto è veramente di scordi subito di essere romanista, nel senso che è talmente sportivo, è talmente legato al concetto di vittoria che l'essere romanista ce lo siamo scordati abbastanza presto. Poi come giustamente dici tu, comunque il 2006 ha cancellato ogni macchina. Diciamo che io amo il calcio e sono della Roma, è una cosa diversa, quindi penso di poter raccontare, addirittura di fare anche un documentario su Re Cecconi, perché è una grandissima storia al di là del mio possibile odio sportivo. Sicuramente appunto ci ha insegnato a vedere un po' questo nemico, e come le sue modalità di ingaggio, cioè vedere crescere quella che poi sarebbe diventata la Juve, è stato interessante. L'abbiamo capita di meglio, probabilmente. Sì, sì, questa è parte, insomma, comunque noi siamo amanti, prima di tutto noi siamo amanti col cesta del registro, siamo amanti del calcio e poi chiaramente i tifosi ci mancheranno, noi siamo amanti del calcio. Sentite, cosa vi ha sorpreso di più del mister e qual è stato l'aspetto più difficile da girare, anche se credo di saperlo? Beh, l'aspetto più difficile è stato gestire una star, perché Marcello è l'equivalente di girare con Angelina Jolie o Johnny Depp, ha le stesse paturnie da star, ma non sono paturnie, è una star, e qui non è neanche abituata, una star che non è abituata a dei ritmi, diciamo, da set, quindi questo è stato faticoso. Però ha capito il grande amore che noi avevamo, il grande rispetto che ci siamo approcciati, ed è stato un lavoro comunque bello e piacevole. Quello che mi ha sorpreso è, non so se cerco il termine più giusto, è che non ha certa linearità, forse anche se non ha certa linearità e compattezza di pensiero e onestà, nel senso ci siamo trovati davanti da subito una persona molto sincera e molto vera, che voleva dire delle cose e te le diceva, non le voleva dire e non le diceva, ma senza girarsi intorno, senza cercare le parole più adatte, quindi questo ci ha permesso appunto una certa confidenza che si vede nel film, perché è un film, ecco, onesto e sincero, che non parte da preconcetti o da tesi da dover dimostrare. Sentite l'ultima e vi saluto, ora che l'avete studiato, lo avete raccontato, c'è qualche tecnico da appassionati di cui vedete un po' le ormi di Marcello Lippi? Adesso? Io penso che, lo stesso Marcello, io ho fatto questa domanda a Marcello, gli ho detto, chi è il tuo erede? E lui, diciamo, che ha un particolare rapporto con Cannavaro, perché è il suo figlioccio, spera che si farà, ma ora mi ha risposto Antonio Conte, perché probabilmente lo vede come una persona che ha preso del suo e ha applicato anche una novità, quindi che è un'evoluzione del Marcello Lippi pensiero. Grazie a tutti. No, 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 no.